Mio padre non mi disse una parola e non disse niente neanche a Michele. Conoscendolo pensavo che se lo sarebbe mangiato vivo e invece rimase in silenzio. Sembrava che volesse punirci stando zitto. Sì, grazie a Cristo che non ti ho lasciato in mezzo a mano. Cioè non mi trovate eravate morti. Maria! E tu! Stai lontano dalla mia figlia! Vatti dalla tua famiglia! Sì, grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!